Grazie alla cume di una diattrice di banca si è riusciti a fissare un falso appuntamento a quale anziché cassieri e clienti si sono presentati i poliziotti del commissariato di Mestre. La trappola è scattata ai danni di una banda di truffatori napoletani che avevano preso di mira una filiale bancaria di Mestre Centro. A presentarsi per prima allo sportello una donna che dichiarava di voler aprire un conto, ma qualcosa nel suo comportamento non ha convinto l'impiegata che ha preso tempo per poi avvisare la polizia. Gli agenti hanno verificato l'identità dichiarata dalla cliente, corrispondeva a quella di una signora che aveva presentato denuncia per truffa alcune settimane prima. La donna si è poi allontanata ma i poliziotti erano convinti che i truffatori si sarebbero rifatti sentire e così è stato. L'indomani un uomo ha chiamato la banca per tentare la stessa operazione. Questi intercettavano degli assegni dei titoli esecutivi e attraverso una falsificazione di documenti aprivano dei conti correnti in banca con i quali poi intascavano le somme. All'uomo è stato dato appuntamento all'interno della filiale dove nel frattempo era stata preparata la messa in scena. Appena ha mostrato l'assegno, da 16 mila euro il truffatore è stato circondato dagli agenti che l'hanno immediatamente arrestato per possesso di documento falso valido per l'espatrio. Altri poliziotti sono intervenuti a bloccare i tre complici che attendevano all'esterno a bordo di un'auto. Per una di loro, a sua volta in possesso di un documento contraffatto, sono scattate le manette. Tutti e quattro sono stati denunciati per ricettazione e truffa aggravata in concorso.